L'innovazione per me è cultura, una cultura che è necessaria per continuare a migliorare i processi, i prodotti e senza quella qualunque attività imprenditoriale, qualunque idea, qualunque business ne risente nel lungo andare. L'invenzione più rivoluzionaria credo che sia internet, io sono uno dei figli di internet perché ho fondato una società quando ero ventenne con l'avvento di internet e credo che ancora oggi non ci siamo resi conto delle potenzialità di internet e forse non le stiamo neanche sfruttando completamente. Si dice che si sta avvicinando qualcosa ancora più dirompente di internet, la blockchain, vediamo se sarà così. Senza diffusione dell'innovazione non c'è progresso, quindi Ford anni fa aveva ragione. Ford appartiene a un'epoca nel quale alcuni pensieri sono ancora oggi visionari ma di grandissima attualità. quella della diffusione del progresso assolutamente è più che mai attuale e probabilmente oggi abbiamo anche gli strumenti affinché questa diffusione avvenga nella maniera più efficace possibile. Wow, che bello! Beh, tante volte, sono una persona che si affascina davanti a tante cose, tante cose belle. Forse l'ultima volta vera sentita emozionale è stata qualche anno fa quando per la prima volta sono salito su una vera macchina elettrica e allora ho capito che qualcosa lì stava cambiando significativamente. Il digitale ha creato sicuramente un nuovo concetto di bellezza. L'importante è che questo non sia l'unico e il dominante, deve essere nella sua specificità, nella sua trasversalità. Non possiamo correre il rischio che quel canone di bellezza diventi univoco, però sicuramente il digitale ci ha dato un nuovo linguaggio, una nuova interpretazione, appunto un nuovo canone in cui raccontare, interpretare e apprezzare la bellezza.